Il Comitato del Museo Etnografico della Torre di Comenduno di Albino ha organizzato nei prossimi giorni una serie di iniziative molto importanti che partono poi da una mostra Enrico Belotti Sagrat. Con noi abbiamo Franco Innocenti che fa parte del Comitato Organizzatore di queste iniziative. Ci vuoi spiegare in poche parole cosa fate? Sì, praticamente un omaggio che vogliamo fare al nostro Presidente del Museo che ha da poco compiuto 75 anni e vogliamo presentare alcune delle sue attività. Nel senso principale chiaramente è la mostra di pittura che abbiamo allestito nella sala gialla della Villa Regina Pacis con oltre 30 sue opere che illustrano praticamente le varie attività pittoriche da lui aspettate. Perché Innocenti Sagrat? Ma Sagrat per il fatto che praticamente il Sagrat, il Sagrat della chiesa qui di Comenduno, è un po' il baricentro delle sue attività. Nel senso che era attivo nella parrocchia, per cui nella chiesa stessa. Il negozio lo aveva ai piedi della scalinata dove lavorava della chiesa. È attivo nel coro laudate che fa parte della parrocchia. È attivo nel oratorio. È attivo nel gruppo Marinelli che è qui nella Villa Regina Pacis. E poi è attivo anche ovviamente nel museo etnografico dell'attore che ha contribuito a fondare alla fine degli anni Ottanta. Iniziative che sono state organizzate in collaborazione con altri enti. Il curatore della mostra e del catalogo è il professore Alberto Belotti che ha messo insieme praticamente tutti i vari gruppi nei quali Enrico Belotti è stato attivo. Per cui gli amici del teatro dell'oratorio di Comenduno, l'anteas di Comenduno, il centro sociale pensionati e anziani di Comenduno, il coro laudate di Comenduno, il gruppo sportivo Marinelli di Comenduno, il gruppo stoico La Fenice Valle Saiana e poi naturalmente l'associazione per il museo etnografico dell'attore di Comenduno. A parte la mostra, quali altri iniziative avete in programma? A parte la mostra che verrà appunto aperta il sabato 16 alle 16.30, abbiamo alle ore 9 del martedì la proiezione di alcuni filmati prodotti da Enrico Belotti, perché tra le altre sue attività c'è anche quella cinematografia. Mentre invece il venerdì 22 sempre alle ore 9, sempre qui nel cortile della Villa Regina Pacis, verranno presentati alcuni canti intervallati dalla lettura di testi scritti sempre da Enrico Belotti.